Signori, Narciso e Boccadoro, film del 2020, avevo già sentito qualche nome del genere, non so se è perché è tratto da un libro o cosa, comunque ero molto molto indeciso se guardarlo, ho visto Monaci, non Monaci, ho detto vabbè, è gratis su RaiPlay, voto 8 e mezzo, è stupendo, ma veramente stupendo, non ti lascio un attimo di tregua ed è veramente bello, c'è dentro di tutto, ma di tutto di tutto, quindi non è una robina leggera, ve lo consiglio proprio, un saluto a tutti, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, ciao ciao